Allora, le ultime parole famose Sei già arrivato? Eh che bello! Dai allora, entra che scarichiamo tutto con la sponda E scarichiamo tutto con la sponda Tra i bancali lunghi più di due metri Qui è il passaggio stretto stretto che è amato da tutti quanti Vabbè, vorrei dire che mi eviterò di passarci oggi Cioè di andare domani in fiera Don't forget the sticker Oh no, io non l'ho dimenticato lo sticker Non me l'hanno dato loro E quindi faccio senza dello sticker Vi faccio vedere il foglio dell'autorizzazione a entrare Allora Andiamo, verso Rebstock Bad Era la piscina di Rebstock Che ora qui c'è il cantiere È stata tirata giù E c'è il cantiere Il cantiere qui sulla destra Era la piscina pubblica di Francoforte Era O perlomeno di questa zona di Francoforte Adesso invece come si vede C'è il cantiere Adesso C'era anche l'altra volta che ero venuto a Francoforte Il cantiere Però allora stavano demolendo la piscina Check-in Coda per i camion Coda per le auto Vabbè oggi non è giornata da Coda per Auto O camion Qui C'era lo stop ma il parcheggio è vuoto Qui invece c'è il semaforo E ce lo facciamo Ragazzi Il semaforo ce lo risparmiamo A dopo Il semaforo è verde Attraversiamo Amarumarhof Che significa La locanda romana Romana inteso di antichi romani E questa è la Strasse der Nazionen La strada delle Nazioni La strada delle Nazioni messe frankfurt eingang nord se non ricordo male questo è l'ingresso nord della fiera di frankfurt terreno privato ma qui ma vige il codice della strada tedesco ah no questo qui è la tor west è vero l'ingresso ovest non il nord scusate non ha voluto neanche la cauzione è vero che ci sono c'era scritto 12 ore di tempo per stare dentro in questi giorni tranne gli ultimi due giorni del montaggio che sono sei ore questo sulla destra è la al 12 se non ricordo male si è la 12 la 5 l'a3 è dopo della 5 devo girarli intorno a 134 logistico buon senso allora 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 ciao Alle 3 Si fanno 21 4 Questa è l'ingresso sud Il tipo con la testa ha fatto sì Sei dalla parte giusta La de zone 3N Mi hanno già visto Chi mi deve vedere Ragazzi Facciamo che dopo Perché sennò qua Ha fatto venire Fin qua Scaricato Due stands Dei tre che ho sopra Adesso il terzo si passa a scaricarlo E a fare il giro del capannone La squadra dei montatori Non è ancora arrivata C'era il committente E basta Io Lui E' il suo aiutante Io che tiravo giù la roba Dal camion con la sponda E il traspalette E loro due Che la portavano dentro E la portavano dentro E la portavano con la sponda E la portavano con la sponda E la portavano con la sponda ecco qui sulla sinistra il piazzale qui sulla sinistra la la seconda volta che venni a Francoforte ci ho passato la notte ehi c'è qualcuno dietro subito vediamo un po' andeto all'angolo di là io ho battezzato questa parte di angolo naturalmente speriamo gli vada bene grazie a tutti 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 Grazie.